Un nuovo anno di impegno e di servizio per i Rotari del distretto 2120, riunito in assemblea presso il Grand Hotel Masseria Santa Lucia Marina di Ostuni, evento rotariano fondamentale in cui si traccia il consuntivo dell'anno in via di conclusione, si delinea il programma del successivo. Ad illustrarlo il governatore entrante Renato Cervini, professore ordinario al Politecnico di Bari, già preside della Facoltà di Ingegneria per sei anni, a tracciare nuovo percorso, le relative linee programmatiche, nel solco del motto vivere in Rotari, cambiare vite. Tante quelle migliorate da Rotari, impegnato nella più grande campagna mondiale contro la poliomelite, con la vaccinazione di milioni di bambini in Africa, Sud America e ora a debellare gli ultimi fecolai in Afghanistan, Pakistan e Nigeria. Per non parlare dell'acqua portata in Benin e delle centomila azioni di servizio per la collettività a favore di ammalati e portatori di handicap. Per il nuovo anno si punta a cambiare la vita delle nuove generazioni, ha spiegato il governatore entrante all'insegna del motto un futuro per i giovani. Tra i progetti più importanti, per esempio, abbiamo privilegiato per la prima volta nella storia del Rotari e del nostro distretto, quattro botte di studio all'estero per giovani laureati che andranno a, come dire, a migliorare la loro condizione in America, negli Stati Uniti e in altri paesi. Questo credo che sia uno dei modi per cambiare la vita ai nostri giovani, per dare loro un contributo per fare in modo che loro siano migliori e le future generazioni crescano nella maniera giusta, più corretta.